Puoi studiare e prepararti quanto vuoi, ma poi scopri... Laviamo il pavimento? Credo di sì. Che nessun manuale aveva previsto tu. Sono un normale test di gravidanza. È per un'amica. Che devi affrontare ogni genere di insidia. Ci si vede in giro, ok. E che fare il medico. Fatto! Passo e chiudo! Può essere molto diverso da come ti aspettavo. Alcuni medici... State tutti fermi. ...devono davvero essere pronti a tutto. Combat Hospital, dal 7 giugno su Fox Life.